Attacca un pochino, ma nemmeno palloni, però è sempre lucido di stare in partita e fare sempre il colpo giusto. Intanto Leon, una lavatrice, Borro alzare verso Ceschi, ancora un muro di Perugia. Plotinski che andrà ancora in battuta, ancora molto forte, ancora un ace, cerca ancora Ceschi. Plotinski in battuta viene ripagato, vuole parlare con i suoi ragazzi. Sì, costretto piazza ancora una volta, chiamare time out per cercare di interrompere, alzare la qualità per poter mettere in difficoltà Perugia. Intanto sulla bella battuta di Leon ci arriva Pesaresi, Patry cerca un pallonetto in difficoltà, il muro di Perugia, poi una giocata impressionante. E allora proprio Roberto Russo al servizio, pallone flottante verso Ishikawa, deve palleggiare Ceschi, ancora verso Ishikawa. Pallone toccato dal muro, piano, dal Dello, verso Djokic, ci arriva molto bene Perugia. Free ball, allora Giannelli, Riklitsky va molto alto, si serve in qualche modo Milano, dal Dello verso Ishikawa. Una difesa di Russo Giannelli, la pipe di Lotrischi, che risolve uno scambio molto lungo e molto bello.